Se non fosse per una condivisione social del segretario locale del PD Modestino Rosiello, non ci sarebbe alcuna certezza di paternità della nota anonima con cui la coalizione del centro-sinistra ha confermato la scelta di Roberto Mutalipassi quale candidato sindaco in vista delle elezioni del prossimo 12 giugno. Una modalità irrituale che getta un'ombra di dubbio sull'ufficialità di una scelta dei partiti del centro-sinistra. Nessun simbolo di partito, solo toni livorosi nei confronti di chi, come Adamo Coppola, soltanto cinque anni fa era stato scelto come erede di Franco Alfieri e fino a cinque giorni fa era sostenuto da una maggioranza bulgara in consiglio comunale. Con un linguaggio più da uomini e donne che da comunicato stampa si legge infatti nella nota. Senza ipocrisie e senza voler scendere nelle motivazioni spiace prendere atto di una diffusa avversione dell'opinione pubblica rispetto all'attuale sindaco. Negli ultimi giorni, pur avendo tentato di costruire intorno a lui un'ampia coalizione, non abbiamo registrato entusiasmi, ma solo rassegnazione nei tanti nostri simpatizzanti e l'attesa della resa dei conti dei cittadini alla data delle elezioni. Resta però il nodo del simbolo. Mentre Coppola sembra flertare con i suoi vecchi amici di gioventù, prospettando anche un suo rientro in Forza Italia, partito del quale nei primi anni 2000 ha stato segretario locale, sul fascicolo del Partito Democratico presente nella segreteria provinciale, pare compaia un grosso punto interrogativo. A chi andrà il simbolo? Possibile che questa scelta possa incrinare i rapporti tra Alfieri e De Luca? L'unica certezza al momento è quella della frattura che si è appena consumata. Sotto quali simboli e con quali bandiere correranno i candidati resta ancora da decifrare. Intanto, gli altri competitor si sfregano le mani. Possibile che la partita delle prossime amministrative si riapra davvero?